Ciao ragazzi, un treno che passa sul ponte di Lussemburgo, dicevo siamo sempre noi in Lussemburgo giovedì 7 luglio 2021, 22, buonanotte, e adesso andiamo, vedete il tempo lascia un po' desiderare, basta che non piova, va benissimo, vedete, là sotto c'è tutta la parte antica diciamo del Lussemburgo, la ricordavo molto più grande sto ponte, vedete, vedete che figata, e noi poi raggiungeremo anche quella parte lì ovviamente, adesso invece tra poco raggiungeremo quella chiesetta e poi da lì inizia il vero e proprio giro, scusate, inizia il centro storico di Lussemburgo, perché qua siamo solo come vedete dove c'è l'ingresso alla città, vedete, e adesso tra poco vi diamo un saluto, non riuscivamo a trovare questo ponte poi grazie alla cattedrale, quella chiesetta abbiamo visto lì, siamo riusciti a risalurre, ma insomma c'è una rietta bella, bella fresca, quindi di qua, ah vedete c'è anche quell'altro punto, bandiera del Lussemburgo e un saluto da qua.